Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Tutto è pronto per la dienciannovesima edizione di Fritto Misto che si svolgerà ad Ascoli dal prossimo 22 aprile fino al primo maggio, offrendo la possibilità di vivere nel capoluogo piceno un'esperienza unica con un cocktail a base di ottima cucina, visite ai musei e un patrimonio artistico e architettonico di prestigio. Fritto Misto si presenta al grande pubblico con la formula che negli anni gli ha permesso di raggiungere grandi successi, arricchita da novità che non mancheranno di stuzzicare la curiosità di chi vorrà vivere questa esperienza nelle marche. Il Palafritto offrirà oltre 40 ricette di fritture da tutta Italia e alcune dal mondo, alle quali potranno essere abbinate vino e birra con la consueta formula adottata per gli eventi del cibo di strada. Fritto Misto si inserisce in un contesto ovviamente incredibile come è quello del centro storico di Ascoli, il programma è veramente un programma completo legato anche a eventi musicali, appuntamenti culturali, quindi diciamo un modo perfetto veramente per promuovere il territorio di Ascoli, ma non solo della provincia ma anche della regione Marche. La regione Marche sarà presente con un proprio stand dove si parlerà di strumenti a favore delle aziende agricole, per le imprese, per poter sviluppare dei progetti importanti nel campo dell'agricoltura. Si rinnova dunque il connubio con un evento di successo, divenuto un appuntamento in grado di richiamare in città anche tanti turisti. Fritto Misto è ormai la diecinnovesima intuizione, dimostra di aver consolidato quella che è una maiftazione enogastronomica di carattere turistico, porta tanta gente in città, è quello che ci interessa, far sì che vengano più persone possibili perché quando qualcuno viene ad Ascoli, poi se ne innamora, ci torna, la vive. Quest'anno c'è stata anche questa bella intuizione tra i commercianti e coloro che quindi possono mangiare a Fritto Misto, dove c'è uno sconto parallelo che permette quindi di andare a visitare anche i negozi afcolani e non dimentichiamo anche l'accordo che permette di andare a visitare i musei.